segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te è il grande giorno è arrivato finalmente parlare di grande giorno appartiene a un modo di giornalismo che lei pratica che non guarda l'essenza oggettiva dei fatti questa è una mostra come le altre su uno scrittore importante non nascondo che uno scrittore per il quale io c'ho una predilezione però lei ha dimenticato una cosa fondamentale che anche l'autore preferito di giorgia meloni genero san giuliano arriva dalla msi dove è cresciuto fin da ragazzino e andava in giro con giorgio almirante poi da allora ha fatto il giro di tutto il centrodestra è entrato in rai all'epoca di gianfranco fini segretario di n poi quando fini ha divorziato per lusconi si è buttato con berlusconi vice direttore del tg1 con minzolini diventato direttore del tg2 in quota lega riuscito a rimanere in questa legislatura in cui ci sono stati tre governi diversi lui comunque diciamo sempre fisso al tg2 nel frattempo si è rinvicinato a fratelli d'italia è tornato a casa ed è diventato poi ministro della cultura da quando il ministro san giuliano ha fatto diverse nomine nell'ambito della cultura petrangelo butta fuoco alla biennale di venezia secondo me tra quelle recenti la più importante prima c'era alessandro giulia al maxi adesso arriverà alla scala qual è il filo rosso che le unisce sicuramente la vicinanza politica a destra con la cultura vuol fare quello che vuol fare con tutto il resto c'è giovanni orsina che ha usato una descrizione perfetta è famellica e sbrigativa poi rispondo con egel cioè noi siamo per creare nuove sintesi non nuove egemonie culturali non cercate egemonia però cercate alternanza alternanza istituzionale è prevista dalla legge non ci interessa sapere cosa vota un drammaturgo un autore un attore ci interessa che vengano premiati in merito e la qualità artistica il problema è come si fanno però le nomine cioè se si preferiscono i fedeli o i bravi ho detto o perché le due cose non stanno quasi mai insieme i bravi di solito non sono fedeli perché sono consapevoli del proprio valore e quindi sono indipendenti non si fanno mettere i piedi in testa e una delle ultime nomine del ministero della cultura ci porta in ciociaria precisamente a frosinone questo è un autolavaggio la persona che cerchiamo è proprio qui dietro salve scusi è il signor tagliaferri lui è fabio tagliaferri al fiere di fratelli d'italia in ciociaria è il nuovo amministratore delegato di ales società in house del ministero della cultura che gestisce tra le altre cose l'art bonus l'archivio della canzone italiana e soprattutto fa attività amministrativa prima di tutto congratulazioni ma come mai questa nomina io ho una laurea in economia e commercio magistrale ho tre aziende sono 25 anni che ho fatto nel pubblico amministratore però ci chiediamo a livello di cultura quali sono le sue competenze perché mi risulta che lei gestisce un autoloneggio ho tre aziende in realtà che si occupano di noleggio di di automotivo insensurato e anche di assicurativo ho visto anche il curriculum dell'ex amministratore delegato presidente che aveva un elenco infinito di competenze interne cioè di competenze culturali l'amministratore delegato di ales non è un critico d'arte ma deve essere un manager che gestisce un'azienda che come lei vedrà fattura 100 milioni di euro e che ha oltre 2.500 dipendenti pertanto c'è bisogno di una figura manageriale lei ha tutti questi dipendenti sotto di lei non ci vogliono 3 mila dipendenti per poter gestire un'azienda da 3 mila di dipendenti è sufficiente avere un'azienda con dei dipendenti io ne ho avuti 10 5 7 a seconda dei periodi ales ha anche la gestione artistica del museo delle scuderie del quirinale l'ex presidente per un anno gestirà la direzione che dei scuderi del quirinale perché lui è proprio competente mi dicono che abbia organizzato anche delle mostre eccetera eccetera tutte le polemiche sull'amichettismo che effetto hanno fatto su di lei l'ha sentita meloni dopo la nomina io ho mandato il messaggio insomma il presidente mi ha augurato un buon lavoro io ho il mito di giorgio milioni cioè io non è che sto per me per me è difficile essere io non so assolutamente proprio prendo dalle labbraio cioè io mi passo le giornate a vedere i video i video sui social quelli il diario di giorgia le sue e le sue uscite a palazzo ghigli paro cioè perché essendo uno che vuole imparare cerca sempre qualcuno che mi vuole insegnare a me giorgia insegna cioè l'altro giorno il video di basolizza che mi sono visto delle volte nessun governo di un paese democratico più importante come l'italia può orientare la cultura del paese un ministro della cultura non deve avere l'ambizione di orientare la cultura ma di promuovere la cultura che già esiste e che nasce e che si diffonde indipendentemente e liberamente a prescindere insomma dal dal governo l'ultimo problema per il ministro della cultura arriva da sorrento dove il suo consulente giuseppe cuomo si è dimesso giuseppe cuomo è stato sindaco di sorrento dal 2010 al 2020 precedentemente è stato a lungo consigliere provinciale di napoli e fino al 2019 è stato l'elemento di punta di forza italia in costiera sorrentina dai nostri articoli sul fatto quotidiano il ministro san giuliano si accorge che giuseppe cuomo era rimasto socio di un pregiudicato di camorra salvatore l'angellotto quattro anni e sei mesi per concorso esterno del clan esposito in una società che era stata appena raggiunta da un'interdittiva antimafia tutto è partito da questo terreno che salvatore l'angellotto con la edil green voleva rendere un parcheggio di oltre 200 box e dalla denuncia di un attivista del vvf che ha portato la magistratura a bloccare l'opera tu sei stato aggredito dall'angellotto in che modo lui ha cominciato prima mi ha dato uno spintone poi ha cominciato a dare calci schiaffi ceffoni pugni insomma mi ha colpito la tempia poi mi ha dato un calcio nella costola insomma mi ha fatto un po male infarciato che gli avrei fatto perdere con le mie denunce un bel po di milioni di euro come ci si trovava lei in questa società ero socio del papà di l'angellotto dice molto il padre lui ha acquisito la quota per successione come mai lei era in questa amicizia con il l'angellotto ma il padre sta qui da 50 anni stava era conosciuto nella zona ha costruito tantissimo tantissimo in penisola torrentina ok ha chiesto a lei di entrare in società per quale motivo dovevamo fare degli investimenti immobiliari lei di che cosa si occupava per il ministero della cultura io sono stato nominato come esperto nel paesaggio sulla base di quale competenza io sono stato amministratore pubblica e poi sono avvocato la lega un rapporto personale a san giuliano che ha visto le sue potenzialità le sue capacità ma sì per noi solo un rapporto personale non è che ci sia un rapporto politico volevamo chiederle un po sulle nomine le ultimi problemi che aveva avuto in questo periodo come ad esempio quello su cuomo la società con un pregiudicato è pesante infatti gli ho chiesto immediatamente le dimissioni pur non essendo indagato in meno di 24 ore si è dovuto dimettere e sulle sue competenze specifiche perché non ci risulta che lui abbia competenze in materia di paesaggio anzi è un avvocato amministrativista ma da sorrento ci hanno detto che in realtà la sua amministrazione non sia stata specchiata dal punto di vista paesaggistico non è mai stato indagato mentre su tagliaferri su ales mi può rispondere